Adesso di Inter lo facciamo in due modi diversi perché ci sono notizie importanti soprattutto per quanto riguarda la giornata di ieri con il passaggio dell'Inter da Zang a Oktri ovviamente c'è tutto un discorso legato anche al mercato ma comunque siamo nel periodo dei festeggiamenti per l'Inter perché ovviamente è stata una festa lunga che è iniziata ovviamente con il derby vinto contro il Milan ha proseguito ovviamente anche domenica scorsa passando chiaramente per il famoso pulmo a scoperto la consegna della Coppa Scudetti, il concerto di San Siro, insomma una lunga festa nerazzurra che è stata rimarcata e sottolineata anche da un prestigiosissimo quotidiano come Repubblica allora io mi collego direttamente con la sede di Repubblica Milano, Carlo Anovazzi, caporedattore vicario di Repubblica Milano Carlo ciao, buonasera e benvenuto Ciao a tutti, grazie a voi, buonasera Grazie a te per questo collegamento, allora Carlo ti chiedo intanto di presentare questo lavoro che se non sbaglio per i lettori di Repubblica Milano sarà a disposizione domenica, dico bene? Aspetto, sarà distribuito gratuitamente domenica con Repubblica Milano in Lombardia Abbiamo avuto questa idea quando la giornata del 28 aprile, la domenica del 28 aprile abbiamo visto 300.000 passapersone scortare il pulmo dei campioni da San Siro fino in Piazza Duomo e da lì c'è venuta l'idea di tributare un omaggio a questo campionato proprio perché c'era una partecipazione che non c'era mai vista e non c'era mai stata È vero che l'anno della vittoria del campionato del Milan c'erano state tantissime persone ma mai come 300.000 Un fatto clamoroso e partendo da lì abbiamo costruito il nostro libro che appunto sarà distribuito, come ho già detto prima, gratuitamente lo sottolineo con Repubblica Domenica Raccontiamo le 10 partite più importanti della stagione, diamo le pagelle ovviamente ai protagonisti ma abbiamo anche attivato 11 tifosi, 11 come i calciatori che c'è non in campo ogni partita che danno il loro Oscar e poi abbiamo intervistato Massimo Moratti e Ernesto Pellegrini per tenere il filo della continuità tra le vittorie passate e questo ventesimo scudetto che vale la doppia stella e poi abbiamo tutta una serie di interventi, abbiamo chiamati così, ovvero di pezzi scritti appositamente per noi per questa pubblicazione dal direttore Molinari e tutte le firme di Repubblica ma tantissimi interventi tra i quali quella del CEO dell'Inter Beppe Marotta che dice continueremo a scrivere la storia più che mai attuale visto la situazione Ma giusto per spoilerare, tu dici ci sono 20 interventi di VIP, mi pare tu li hai definiti così, per esempio Stefano Boeri, presidente della Triennale, grandissimo tifoso dell'Inter ma prestigiosa e importante figura nel panorama milanese e nazionale l'archistar del Bosco Verticale per intenderci, oppure Enrico Bertolino, l'attore comico che è milanesista dell'Isola Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Humanitas che farà questo nel libro, fa questo rapporto tra la dimensione scientifica e il calcio per testimoniare i rapporti stretti tra due discipline che all'apparenza sembrano completamente differenti Abbiamo Don Paolo Agliata che è vicario della Chiesa di Santa Maria incoronata a Corso Garibaldi e che racconta la simbologia della stella Ovviamente il libro è giocato sulla doppia stella, quindi la simbologia della stella partendo dal contiblico arrivando in modo molto più popolare al calcio e alla vittoria del campionato dell'Inter Beh poi sicuramente sarà fatto una cosa molto bella, mi ispira molto Insomma lo stile di Repubblica lo conosciamo, quindi sicuramente sarete riusciti a trovare tutti gli agganci e le connessioni particolari legate alla stella, la doppia stella, il 20 come numero eccetera eccetera quindi sicuramente sarà un gran bel lavoro che i lettori apprezzeranno moltissimo Siamo anche un po' in una zona tipo carrambata, perché qui Carlo c'è una persona che mi dice Ma io lo conosco bene Volevo salutarlo, ciao sono Paolo, come stai? Ciao Paolo, ciao, bene bene, tu? No bene, volevo sapere, estralibro sull'Inter che sarà sicuramente interessante se sei ancora un ottimo tennista o è appeso alla racchetta No no, si prova a continuare a giocare un po' meno recentemente per qualche motivo ma ha la voglia di tornare a continuare questo sport che ci accomuna, c'è sempre Carlo era un bel tennista, uomo da serve in volley ci trovavamo nei campionati nazionali giornalisti eccetera, oramai secoli fa Vabbè però, insomma, mi sembra giusto Ovviamente Carlo, al di là di questo lavoro molto importante, ecco che tu ci stai mostrando che anche noi abbiamo fatto vedere a casa con... Che meraviglia ragazzi Che meraviglia Thomas Fierro, domenica alle 5 sei fuori dall'edicola Sarà il primo a prenderlo Bravo, sembra giusto Minimo Mi sembra giusto Restando invece sul tema dell'attualità Carlo, il nostro titolo parla anche di questa settimana un po' particolare perché è l'Inter che festeggia lo Scudetto ma 24 ore dopo la consegna della Coppa Scudetto Zang si trova costretto a mollare l'Inter quindi il presidente che passerà alla storia per essere il presidente che ha portato la doppia stella all'Inter è il presidente che perde l'Inter il giorno dopo cioè è una storia nella storia anche questa se vogliamo E anche questa è un po' l'unicità di quello che è successo nell'ultimo mese unicità, una partecipazione così elevata di tifo unicità, quello di festeggiare uno Scudetto senza il presidente cosa che a mia memoria, che non è infinita ma comunque è di qualche anno non era mai successa e due giorni dopo addirittura questo cambio di proprietà io credo che però ci sia una continuità che debba rassicurare i tifosi interisti la continuità rappresentata da Beppe Marotta e questo penso che sia l'aspetto più importante e significativo di questi ultimi giorni Marotta avrebbe potuto tranquillamente accettare qualunque tipo di offerta da qualche altra parte rimanendo lui credo che i tifosi possano essere tranquilli perché l'area tecnica, ovvero quella che aiuta, costruisce e porta ai successi rimane intatta Beh questo penso assolutamente, siamo tutti d'accordo, non diciamo a Marcello Chirico che pensare di aver perso Marotta è Marcello, la garanzia dell'Inter è lui, confermi? Beh sì, è molto abile, poi ripeto lui è abile in tutti i campi, cioè è abile sia nel costruire le squadre ma è ancora più abile nel fare politica sportiva ed sono entrambi importanti per fare strada nel calcio quindi sì, effettivamente la Juve ha perso molto Ecco Carlo, dal punto di vista sportivo è un Inter che se vogliamo l'unico rammarico di questa stagione forse è nella Champions League e in questa occasione magari sprecata con un percorso che poteva magari portarla anche un pochino più avanti Sicuramente, sicuramente la Champions quest'anno rimane l'unico neo di una stagione perfetta quasi perfetta, perfetta lo poteva diventare con la Champions c'è il rammarico perché a differenza del percorso dell'anno precedente questo sembrava almeno ai tempi dei sorteggi più agevole l'Inter ha commesso troppi errori nella partita di andata e non si è garantita una tranquillità maggiore in uno stadio molto caldo contro una squadra di grandissima qualità soprattutto nel proprio campo nel proprio stadio che cambia parecchio le cose infatti il rendimento dell'Atletico tra fuori e casa è decisamente diverso quando sbagli i gol a questi livelli questi livelli i dettagli fanno la differenza i dettagli hanno giocato a favore dell'Atletico Ma hai l'impressione che l'Inter possa, è una frase un po' abusata magari, ma aprire un ciclo perché a giudicare anche dai competitor con la Juventus che sta cambiando guida tecnica il Milan che sta comunque vivendo un momento un po' particolare e cambierà guida tecnica l'Atalanta che ha fatto una cosa meravigliosa però insomma magari non è ancora strutturata per puntare allo scudetto Roma e Lazio che hanno zuppicato il Napoli non ne parliamo cioè l'Inter la sensazione è che parta parecchio avanti rispetto a tutti gli altri anche l'anno prossimo Sono d'accordo io credo che l'Inter abbia la possibilità di continuare aveva avuto già possibilità un paio d'anni fa perché il vantaggio netto nei confronti del Milan poi troppi errori dopo lo scontro diretto perso nel derby con i gol di Giroud però questa vittoria con questo margine fa pensare che l'Inter sia nettamente davanti agli altri anche per il prossimo oserei dire i prossimi anni i cambiamenti come hai appena detto tu nelle altre squadre saranno decisamente importanti e questo ovviamente a tavolino, a freddo, a parecchi mesi dall'inizio delle nuove partite significa qualcosa mentre l'Inter può continuare con un progetto con gli stessi dirigenti con un allenatore ormai rodato e con una rosa già valida ma che marotta e ausilio sicuramente cambieranno in quegli aspetti che magari hanno meno funzionato cito per esempio le alternative in attacco che a livello europeo hanno pesato parecchio nelle due partite Perfetto Carlo, nel ricordare lo vediamo ancora una volta la nostra regia Domenica, l'appuntamento è questo Grazie, grazie a voi, grazie ancora è stato un piacere Buona serata Grazie a te Carlo, grazie a Carlo Novazzi caporedattore vicario di Repubblica Milano mi raccomando un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi dell'Inter che giustamente come Thomas farà domenica mattina giustamente andranno a procurarsi questo libro perché insomma è un altro modo per continuare a festeggiare Quando torna dalla discoteca Marcello lo compro e te lo regalo Te lo regalo a te Marcello Se me lo porti, che lo porti poi contribuisco alla raccolta differenziata Dai, come sei perfido Come sei perfido Va bene, no, no, no Invece è un grande lavoro Una cosa buona però la faccio Che merita assolutamente di essere sottolineato e di essere acquistato Grazie di nuovo a Carlo Novazzi e ai colleghi di Repubblica Milano per questo bellissimo lavoro Alla prossima Carlo, grazie Buon lavoro, grazie Grazie, buon lavoro anche a voi che state sicuramente chiudendo il giornale in questi minuti Il nostro titolo ci porta al discorso Fabio Oktri-Zang Situazione decisamente anomala però effettivamente, come ci diceva anche Carlo prima Finché il timone è nelle mani di Marotta credo che i tifosi dell'Inter possano essere abbastanza tranquilli molto tranquilli, un po' tranquilli Credo che la verità stia nel mezzo Cioè, non è vero che l'Inter sta per fallire da un istante all'altro ma non è neanche vero che va tutto bene sono tutte rose e fiori Il fatto stesso che siamo di fronte a un scenario clamoroso mai visto storicamente prima di un presidente che festeggia da lontano lo scudetto e il giorno dopo gli viene portata via la società credo che sia un fatto talmente clamoroso che veramente non ha precedenti nella storia Detto questo, la proprietà del fondo Oktri per fortuna dei tifosi dell'Inter non è di Marcello Chirico che se fosse sua avrebbe sciolto l'Inter il giorno dopo averla comprata ma è appunto di persone, dirigenti, strutture finanziarie che hanno come obiettivo quello di fare soldi Per fare soldi significa che devono vendere l'Inter alla cifra più alta possibile Per venderla alla cifra più alta possibile la devono mantenere competitiva quindi hanno subito confermato la dirigenza per cui è presumibile che l'Inter possa sicuramente restare competitiva nell'immediato futuro per poi essere venduta Repubblica Milano ho sentito i colleghi hanno avanzato in particolare molto ottimisti io ci andrei un po' più coi piedi di piombo perché il fatto che l'Inter quest'anno abbia vinto lo scudetto con questo vantaggio l'anno scorso l'ha fatto anche Napoli e poi abbiamo visto che l'anno dopo le cose non sono andate esattamente benissimo l'Inter in particolare ha anche l'età media della Rosa abbastanza alta a parte alcuni giocatori la media abbastanza alta e i due nuovi acquisti già arrivati i Tarimi e Zerinsky non abbassano di certo l'età media quindi per aprire un ciclo è necessario anche ringiovanire vediamo Marotta e Ausilio sono due specialisti vediamo come sapranno farlo nei prossimi anni Paolo? Sì sì sono d'accordo con Fabio sull'età media della Rosa l'anno scorso facevo notare e le ho sbagliate tutte come Acerbi con un'età avanzata potesse magari steccare il campionato non l'ha steccato Darmian idem con patate però gli anni passano quindi posso aspettarmi l'anno prossimo che Acerbi non overperformi che Darmian faccia lo stesso Mkhitaryan c'ha 34 anni ci sono dei giocatori che hanno reso oltre il loro livello devi riuscire a tenerli sulla corda ancora non è facile hanno una pancia un po' più piena hanno vinto lo scudetto l'anno prima non l'avevano vinto quindi quest'anno erano più stimolati hanno tante competizioni alle quali far fronte la Champions League con più partite il Mondiale per Club secondo me non sarà così semplice e intuitivo tenere la barra dritta poi giustamente come facevi notare prima te il Milan cambia allenatore la Juventus cambia allenatore cioè le altre sulla carta partono da da posizioni più lontane ma che per l'Inter sia tutto rosa e fiori che ci sia un ciclo alle porte anni 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 calma aspettiamo un attimo e vediamo io tutte queste certezze sinceramente non le ho su Octree credo che per l'immediato futuro cambia relativamente poco cioè l'Inter ha già preso Zenischi ha preso Taremi rimane Marotta che è il deus ex machina rimangono Ausile e Baccini che sono due ottimi dirigenti sul presente prossimo sul futuro prossimo cambia poco certo tu sai quello che lasci Zhang un presidente che ultimamente aveva potuto far poco ma che all'Inter indubbiamente teneva e ti affidi nelle mani di un fondo e come dice Fabio ha bisogno di valutare rivalutare sovrapprezzare un prodotto ma che visceralmente parlando del prodotto in sé non gliene frega molto allora prendiamoci due minuti perché la notizia di giornata arriva invece dall'agente di Lautaro Martinez che ha detto cose importanti che meritano di essere un po' soppesate nel frattempo è sempre una 0 Fiorentina quando a Cagliari siamo al 55esimo di gioco vi do la notizia che il Bari sta vincendo 3 a 0 a Terni clamoroso 3 a 0 a Terni è il play out sostanzialmente la Ternana aveva due risultati su tre perché anche col pareggio non ci sarebbero stati supplementari rigori e si sarebbe andati la partita sarebbe conclusa a retrocedere sarebbe stato il Bari che aveva un solo risultato a disposizione 66 di gioco 3 a 0 Bari in quel di Terni risultato veramente importante e clamoroso oggi fra il sindaco di Bari in maniera molto delicata e carina ha detto preferisco retrocedere piuttosto che avere ancora dei laurenti se l'hanno prossimo direi ecco un bel modo un endorsement a proposito di Gasperini dell'andare a lavorare in un ambiente attenzione alle parole dell'agente di Lautaro Martinez che oggi ha parlato a FC Inter News possiamo andare a leggere un estratto delle sue dichiarazioni che come al solito danno un po' un colpo al cerchio e non la botte perché dice lui si chiama Leandro Camano Lautaro si sente al 100% parte integrante del club ancora due anni di contratto fino al 2026 solo l'Inter può rendere la decisione di venderlo l'Inter vuole rinnovare e noi abbiamo già detto di sì vuole restare e rinnovare ma si dovrà parlare di che giocatore si è diventato oggi se per tutto il mondo è paragonabile a un Holland o un Bappé a giocatori di altissimo livello internazionale si deve partire da qui in Italia ci sono calciatori che guadagnano di più e hanno fatto di meno è fondamentale spiegare alla gente che Lautaro è disponibile a trovare un accordo con i nerazzurri ma non in qualsiasi modo i tifosi non devono avere paura perché sanno che Lautaro ama l'Inter poi certo la professione del calciatore è corta e si deve adattare alla situazione di Martinez a quella del mercato lui continua a dirmi di non sentire alcun club perché vuole restare all'Inter alle giuste condizioni cioè per una che è l'età di qua è utile esatto ogni frase ti butta a sinistra e a destra lui tra l'altro Alejandro Camagno è l'ex procuratore di Hector Cooper tra l'altro già i tempi l'ombre verticale sì ma in pratica cioè fossi l'Inter o comunque oggettivamente bisognerebbe spiegare perché lui paragona Lautaro a Mbappé esatto ad Holland bisogna spiegargli che questi giocano in club molto più ricchi che non hanno le vicissitudini finanziarie che ha l'Inter e quindi se lui ama tanto l'Inter non ne facesse una questione di un milione e mezzo due sul contratto annuale cioè perché se no a un certo punto sembra quasi che prenda in giro ma non è per il ragazzo è per lui per lui il procuratore che vuole prendere di più le sue commissioni ma le commissioni lui le tratta a parte perché comunque non gliele dà di solito non gliele dà più alto l'ingaggio e più prende sì no perché no no vabbè perché lui può farsi dare anche una parte dalla società non è che da tutto di solito il giocatore però dai è un discorso veramente ipocrita cioè almeno almeno di una parte sola che gli interessa avere un contratto come quelli non che vuole restare all'Inter ma ha detto di non sentire nessuno eh figurati ma chi ci crede no ma poi dice che non sento nessuno però resta a certe condizioni cioè ebbè ma è chiaro si può sentire sì sta cercando di tirare la corda il più che può tirare semplicemente come fanno tutti no come fanno tutti sì sì però come dice Paolo come ricorda Francesco con quelle parole non dice ogni 12 secondi Amalinter Amalinter non lo dire vale di più il ragazzo l'ha dimostrato è vero lui lo rimarca bene bene ripeto questa è la mia idea perché le sue commissioni e la sua fresca vuole essere incrementata ma no ma non è tanto il discorso vabbè ma lui tira in mezzo il ragazzo cioè adesso Lautaro se davvero ama l'Inter siccome non muore di fame cioè puoi dire al suo agente vai e chiudi sono d'accordissimo a 8 più bonus è vero non si possono più sentire certe cose ragazzi non si possono più sentire sono d'accordo Paolo non cadere in queste cose che sono così guerili sono d'accordo con te sono d'accordo con te Lautaro è un uomo di 27 anni voglio dire cos'è cioè è un bambino gestito dal procuratore dai davvero vuole l'Inter sta bene a Milano con la famiglia sta bene la stessa cosa di Samar dice l'anno scorso uguale col papà e lì e lì cioè sei in grado a un'età di prendere una decisione se vuoi andare all'Inter ma una storia diversa perché Samar doveva arrivare lui ovviamente adesso il suo agente sta sfruttando questa inerzia del campionato vinto dell'autaro capocannoniere però a parte che vabbè è da vedere lui lo paragonano ad Alan va bene ma questi giocano in club ricchissimi allora se tu hai rispetto per l'Inter che comunque ti ha sempre pagato bene e ti vuole pagar bene cioè non puoi paragonarti con dei club così una società che appena ha cambiato proprietà perché non è riuscita a restituire un prestito no? cioè mi sembra devi venire incontro ma poi c'è anche una storia una tradizione pareggio del Cagliari con De Iola se non sbaglio è proprio lui ad aver segnato il gol dell'uno pari no Nandes Nandes De Iola De Iola inquadramo Nandes De Iola a 64esimo minuto il capitano del Cagliari va a impattare c'è qualcosa che non va annullato forse annullato ancora sì fermi tutti quante esultanze quest'anno è rotte è fuori gioco è fuori gioco l'impressione che sia fuori gioco il guardaline lo alza subito alla bandiera ma secondo me ci ha visto giusto l'impressione è che sia partito avanti esattamente come era successo con la Padua nel primo tempo comunque sul tema agente Lautaro io mi riaggancio all'auspicio che ha fatto Pocanzi Paolo in maniera estremamente sintetica e non prolissa di riforme di riforme sul campionato e tra le prime riforme metterei l'obbligo l'obbligo federale per cui ogni volta che un procuratore dice vogliamo fare questo però paga 10.000 euro a fondo perduto per il sistema 10.000 è poco bastano 10.000 stai tranquillo che smettono però Fabio però il procuratore è il procuratore cioè nel senso che non è che il giocatore deve per forza fare quello che gli dice il procuratore il suo benissimo come dice Thomas è gol è gol ragazzi chiedo scusa Paolo è gol di De Iola 65 il gol è buono avevamo tutti visto una cosa evidentemente sbagliata sono molto curioso di vedere questo replay ma il gol di De Iola è buono e vanno tutti a esultare da Claudio Ranieri una scena molto 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 bella 65 di gioco 1 a 1 tra Cagliari e Fiorentina strameritato hanno avuto 780 occasioni per quello che si è visto assolutamente sì vediamo se poi la partita si addormenterà un po' o se uno delle due proverà a vincere assist di Prati che secondo me diventa forte 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 vero l'anno prossimo a Fantacalcio segnatevi Prati ci segniamo Prati io invece mi prendo Pamela ma che lo fai con Verga sì sì no ma lui tanto piglia tutti quelli del genere allora vai in show test da quel punto di vista è la friend group e tutti quei faticatori preso Goodmusson che quest'anno che mi ha reso molto bravissimo io mi prendo Pamela Prati va bene dicevi Fabio Stavidò non mi ricordo scusa Marcello ho interrotto te perdonami no 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 non facevo riferimento a te Paolo prima facevo proprio riferimento a Thomas che giustamente diceva ma non sei un bambino deciditi allora un giocatore può andare dal suo procuratore e dirgli io voglio stare qua tu devi chiudere con l'Inter e tra l'altro faccio presente che noi di questo benedetto rinnovo di contratto di Lautaro ne parliamo da mesi e ricordiamoci le ultime sue dichiarazioni prima di Natale tutto a posto io e la mia famiglia vogliamo restare qua mi amo l'Inter firma firma invece no lascia tutto ancora in mano il procuratore il procuratore che tira la corda tira la corda è vero quando dice ci sono dei giocatori che sono più pagati di lui seria io ti faccio l'esempio solo di Vlaovic che viene pagato secondo me più di Lautaro e ha reso meno di Lautaro però io dico se lui è così conviene continua a fare dichiarazioni voglio l'Inter voglio restare qua anche la mia famiglia e prendi sta benedetta penna e firma però Barcello devi guardare anche l'altra parte cioè vuole restare qua ama l'Inter sto bene all'Inter però non è che restiamo a qualsiasi condizione c'è scritto perché lui questo ha detto cioè il parametro deve essere uniformato al mercato perché dice Camano che giustamente fa il procuratore quindi tira l'acqua al suo mulino la carriera di un giocatore è corta quindi ti sta dicendo io devo cercare di monetizzare il meglio possibile in questi anni in cui Lautaro sta facendo gol bisogna usare altri verbi non bisogna usare i verbi sbagliati il verbo amare significa che io sono attaccato in maniera totale a una persona a un club a un'azienda e non me ne frega niente io amo l'Inter amando l'Inter resto qua anche a un prezzo inferiore ma perché la amo se no se no firmi non la ami proprio usi il verbo sbagliato ma non è che magari come dire è più Lautaro da amare l'Inter di quanto non sia Camano a voler più i resti sicuramente cioè magari forse per Lautaro una mezza idea di rimanere potrebbe anche avercela però magari il procuratore che dicendo così ma imponiti io credo che a quel livello ti imponi e gli dici senti caro Camano io però voglio restare qui devi chiudere chiudiamolo perché non voglio portare più a lui invece si sta andando avanti da mesi da mesi ma io credo siano d'accordo insieme ragionino insieme c'è un gioco delle parti io non penso che Camano si imponga su Lautaro io credo che anche a Lautaro faccia comodo sto gioco e mandi avanti Camano più che altro perché Lautaro è bello ma su Donnarumma e Tonali io ho quasi ho quasi la certezza quel che ho sentito anche che mi è arrivato che i procuratori abbiano davvero lavorato molto ai fianchi di questi ragazzi che erano molto giovani per indirizzarli verso il Paris Saint Germain nel Newcastle cioè Lautaro invece è una persona bella che è finita ha 27 anni è sposato cioè scelga scelga basta questa storia di soldi ragazzi i soldi lo capisco finché parliamo di 1000 euro 2000 euro 3000 euro quando si parla di 6-7 mila euro come dice Marcello non parlare di amore non parlare di nulla non parlare di attaccamento alla maglia perché è ora di finirla con queste cose qua è ora di finirla ma chi lo vuole Lautaro? chi lo vuole Lautaro? però non ci sono offese qualche offese non che non piaccia però oggi chi lo vuole? però effettivamente ha ragione il premier penso che troverai sondaggi veri veri sono stato appostato a questo o a quel club se l'Atletico Madrid potesse prenderlo secondo me prenderebbe l'Atletico Madrid come già stava facendo all'epoca ti ricordi anche dei club di premier lo sospettiamo noi se lui è sul mercato lo può arrivare no no è chiaro potrebbe anche essere effettivamente che magari delle richieste preliminari ci siano state ma sapendo in realtà di essere già d'accordo al netto che bisogna trovare le giuste condizioni all'Inter la porta è talmente chiusa che nessuno apre una vera e propria trattativa perché non ha la possibilità la porta è totalmente chiusa da parte dell'Inter stia parlando di una società che ripeto adesso magari si stellerà i propri conti ma fino a due giorni fa avevi un presidente che se fosse arrivati 120-130 milioni per l'Autaro certo adesso con Ocrino lo so perché non li conosciamo quindi non sappiamo ma sarà uguale Francesco sarà uguale la filosofia è questa con l'Autaro almeno Zang ci faceva le videochiamate c'era anche un rapporto tra persone giovani perché Zang è un ragazzo giovanissimo l'Autaro è un 27enne Ocrino l'Autaro non sa manco che tono di voce c'ha quindi non lo so da capire da seguire da monitorare sei preoccupato Thomas? assolutamente no sono in pace proprio sono contento ho visto che si sta muovendo molto bene Oc3 appena arrivato si sta muovendo ho visto se l'ha visto mi è piaciuta la mail che ha mandato ad Abodi dove ha spiegato siamo a vostra disposizione vi manderemo le nostre credenziali vi faremo capire chi siamo vogliamo rassicurarvi quindi questo mi rascura che Oc3 sia un fondo serio mi è piaciuta questa cosa qua maneggia al 31 marzo maneggiava 192 miliardi di dollari esatto come fondo quindi non è questa mail che ha mandato ad Abodi l'ho guardata con un occhio ma io ti chiedevo di Lautaro di Lautaro ma Lautaro ancora più sereno che con Oc3 Lautaro se vuole andare via quella è la porta ma ragazzi non è il primo e non è l'ultimo se arriva l'offerta buona è giusto che vada via perché in tutte le squadre ci sono queste cose vale così per Barella vale così per altri giocatori importanti se arriva un'offerta giusta se dovesse arrivare anche per Leao vogliono pagare la clausa di 175 milioni parte anche Leao quindi non mi meraviglio più niente di niente di questo calcio purtroppo i soldi sono diventati la cosa principale e quindi se arriva un'offerta del genere andranno via e ce ne faremo una ragione con quelli lì o non lo so prenderemo altri giocatori non lo so adesso bisogna semplicemente vedere se questa nuova proprietà dà l'ok per allargare per alzare l'offerta semplicemente quanta è la forbice in questo momento? ma io credo un paio di milioni cioè 8 più bonus da quello che sia 10 fissi che vogliono loro 10 12 vuole 10 10 con qualche bonus 12 ho letto 12 qualcuno ha scritto anche 12 anche 12 con le dello sport ha scritto 10 più bonus non 12 fissi sono tanti per arrivare a per arrivare a 8 più bonus abbastanza facili per arrivare a 10 non tutti facili perché legati alcuni anche bonus di squadra non sono individuali quanto prende attualmente Paolo? attualmente quanto prende? 6 comunque posso dire una cosa prende meno prende meno diciamo no cioè lui vorrebbe il doppio cioè lui vorrebbe il doppio il procuratore si è azzardato ad associarla a Oland Mbappé volevo dire al signor Camano che non so se se l'è persa questa cosa ma in Europa Lautaro a Oland Mbappé non li vede manco da lontano cioè Lautaro ad oggi è decisivo in Serie A ma Lautaro in Champions League fa grande a livello di numeri e fa la differenza lui ti fa l'esempio dei giocatori italiani cioè lui sicuramente però lui parla di Oland Mbappé di Vlaovic sì ma vabbè ma ok perché dice lui lui ha quei livelli vabbè però lui quando parla di giocatori italiani prendono di più lui sicuramente fa riferimento a Vlaovic che prende 12 milioni dal prossimo dal prossimo anno e quindi chiaramente dice ma come io che sono campione d'Italia che faccio più gol eccetera prendo meno di quello e capisci che lui la fa pesare questa cosa però però effettivamente doveva andare dall'Inter a chiedere 20 milioni di ingaggio vedendo Allegri quanti ne prenderà effettivamente i nomi che ha fatto il procuratore sono quelli di Oland e Mbappé mentre effettivamente è vero che fino ad oggi ma in realtà non è che non è lui a paragonarlo lui dice se possiamo rivedere la scritta dice viene paragonato viene messo allo stesso livello di gente come Oland e Mbappé se io dico che uno viene paragonato a lo sto dicendo io non ho visto nessun'altra dichiarazione di qualcuno che diceva di paragonare Lautaro a Oland se per tutto il mondo è paragonabile a un Oland a un Mbappé a giocatori di un livello internazionale tutto il mondo è tutto il mondo nella testa di Camano Lautaro fa la panchina al signor Alvarez del Manchester City al di là dell'Argentina comunque non ho mai visto altre dichiarazioni di peso importanti non del tifoso della curva nord che paragonino Lautaro a giocatori di questo livello e va detto che in effetti mentre non solo quest'anno è stato capocannoniere ma anche negli anni scorsi è stato comunque un giocatore di primissimo livello quanto a realizzazione in Serie A in Europa fino adesso è stato episodico nel senso che è stato decisivo una volta in una semifinale di Champions in tutte le altre occasioni in Europa contro il Milan contro il Milan però posso dire contro il Milan gol importante che rimarrà nel tuo cuore decisivo? no l'Inter aveva già vinto 2-0 e parlavamo degli ultimi 10 minuti del ritorno comunque ha segnato il gol decisivo di una semifinale di Champions League non era decisivo decisivo per la partita per il risultato decisivo è sempre stato importante per la squadra però a livello realizzativo quello che si dice si sacrifica molto per la squadra però a livello realizzativo in Europa non è mai stato neanche lontanamente paragonabile a quello che è stato il mio campionato ragazzi 75 di gioco a Cagliari 76 anzi 1-1 tra Cagliari e Fiorentina mentre invece in Serie B è sempre 3-0 Bari contro la Ternana davvero un miracolo Bari che resta tra l'altro in 10 per l'espulsione di Bellomo ma ormai siamo all'88 quindi veramente impresa praticamente fatta in realtà Bellomo è stato espulso dalla panchina un grande piacere del sindaco di Bari che si deve tenere De Laurentiis Junior come presidente però veramente una grande serata per il popolo barese perché probabilmente vincere 3-0 a Terri non se lo sarebbero mai immaginato tra un attimo arriveremo anche con il finale a